Buongiornissimo ragazze e ragazze perdonate l'aspetto perché mi sono svegliata da tipo 5 minuti, sono in vestaglia quindi sono senza trucco naturale e anche un po' gonfia perché non so voi ma appena mi sveglio sono sempre gonfia e allora sto facendo colazione e lasciate un bel like a questo video, lasciate tanti pollici in su così capisco che vi piacciono ne faccio tanti altri e tanti bei commentini che fanno sempre tanto piacere al cuore adesso vi faccio vedere la mia colazione, sto preparando tutte le cose ma prima una cosa che faccio sempre sempre io prendo l'aloe vera, soprattutto ragazze in questo periodo quando mi voglio purificare quindi pre e post mangiate quindi pre e post natale e feste, vi straconsiglio l'aloe vera, io l'ho inserito su carlitashop.com e lo vendo tantissimo in tante lo amate perché è davvero un ottimo prodotto, questo per me è il migliore perché ha un ottimo sapore c'è in vari gusti che adesso vi faccio vedere, allora c'è quello al mirtillo che è ottimo anche per sgonfiare le gambe e contro le vene varicose eccetera, poi c'è quello all'ananas che al momento qua non ho perché è finito che è anche buonissimo ed elimina la cellulite e poi c'è quello, c'è anche un altro gusto, comunque venite su caritashop.com io vi metto il link, le box informazioni sotto e vi metto tutti i link di tutti gli aloe vera che io preferisco e che trovate sul mio shop online, ragazzi sono fenomenali perché vi sgonfiano un sacco quindi eliminano la ritenzione, la cellulite, il gonfiore addominale quindi per avere la pancia piatta vi purificano, migliorano un sacco anche la pelle poi c'è questo qua che è quello bio, ragazzi è favoloso e io questo sto prendendo in questo periodo ragazzi è ottimo, succo d'aloe vera bio, buonissimo, un ottimo sapore e c'è questo qua che è quello neutro che è anche buonissimo, molto rinfrescante hanno tutti un ottimo sapore quelli che trovate sul mio shop e ve li consiglio perché sono ottimi ragazzi vedete praticamente l'ho versato un po' nel misurino quindi esce comunque, quando lo comprate esce il misurino e lo prendo un misurino prima di colazione a stomaco vuoto e questo lo faccio per, cioè finché non finisce tutto il barattolo e mi purifico un sacco, miglioro un sacco anche la pelle e i capelli provate, è veramente miracoloso oppure potete anche diluirlo nell'acqua io però per fare prima lo bevo così se no potete aggiungerlo anche ad esempio a una bottiglia d'acqua e berla durante la mattinata amo ragazze, vado mmm io lo amo, poi questo qua c'è anche tutti i pezzettini che è succo il pulpa quindi è stato buono comunque provateli tutti perché sono tutti uno più buone l'altro cioè finisco questo e mi prendo questo qua a volte ne apro anche due contemporaneamente perché comunque dall'apertura può stare tanti mesi in frigo infatti c'è scritto anche dall'apertura, dalla parte c'era scritto può stare tipo 3-4 mesi in frigo quindi comunque io a volte ne apro anche due contemporaneamente e le alterno è veramente ragazzi anche la pelle guardate qua, cioè la pelle è molto molto purificata quindi anche se avete problemi di acne, brufoli stra consiglio per la colazione mi sono preparata queste cosine qua che sto amando quindi mi faccio le fette biscottate integrali queste mi faccio un sacco perché sono porzionate quindi io mangio una porzione di queste qua però è poca perché io ne dovrei mangiare comunque di più ho la mia dieta fatta precisa con tutti i grammi e quindi aggiungo un po' di cereali con la scusa questi sono buonissimi ragazzi costano un botto, le ho presi al supermercato però sono buoni c'è un pacco che costa 5 euro però considerate che mi dura un sacco colato fondente e cereali questo è tutto le fette biscottate integrali con lo yogurt alla soia al cocco questo è il mio preferito la marmellata, sempre la mia che vi mostro da anni questa light con 7 calorie e un bicchiere di latte di soia che poi vario prendo quello di cocco prendo quello di mandorle insomma adesso faccio colazione ragazzi come tornare bambini questa è la cosa più buona del mondo latte e cereali ragazzi mi sto facendo una fantastica maschera con i nuovi prodotti che ho inserito su caritashop.com ragazzi sono favolosi allora la routine purificante anti impurità quindi ve li straconsiglio se avete punti neri brufoletti io inserisco tantissimi questi prodotti perché voi me li chiedete sempre allora vedete io l'ho messa anche qui perché anche qua io ho dei brufoletti delle impurità se avete punti neri brufoletti macchie e volete illuminare il viso e rendere la pelle più bella pulita luminosa provate questa routine con questi nuovi prodotti che sono scontati in sconto lancio su caritashop.com ma nel box info vi metto il link dove trovate tutta la sezione con questi prodotti che sono una novità veramente provateli sono buoni 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 poi fanno un profumo infatti c'ho la maschera c'è un profumo buonissimo super primaverile estivo e appunto vi dicevo contengono caffè estratto di ortica zenzero tutti estratti purificanti che rendono la pelle veramente bellissima allora la routine prevede lo scrub che ho già fatto prima che appunto elimina le cellule morte le impurità rende la pelle pulita e luminosa poi fate la maschera 10-15 minuti in posa vi sciacquate se avete ad esempio impurità a brufoletti sulla schiena sulle braccia potete fare scrub e maschera sono ottimi e la pelle già sarà bellissima in più c'è il detergente viso con cui dovete lavare mattina e sera il viso importantissimo perché questo detergente contiene aloe vera sempre estratto di caffè guaranà pepe nero zenzero comunque va a purificare la pelle quindi vi mantiene la pelle bella pulita non vi fa sudare non vi fa cacciare sebo durante il giorno mattina e sera detergente viso con questi tre prodotti ragazzi avete una pelle top in più di questa linea ci sono allora shampoo e balsamo anticaduta che stimolano la crescita dei capelli con caffeina con mentolo anche qua con guaranà guaranà ortica che vanno proprio a stimolare la crescita dei capelli e rendono i capelli io li sto usando proprio più luminosi corposi densi comunque sono ottimi appunto per simulare la crescita invece per tutti voi che mi chiedete prodotti per capelli grassi ci sono questi qua che fanno parte sempre della linea che hanno il piroctoneolamine che è un ingrediente super super purificante in più hanno anche l'ortica che va a purificare il cuio capelluto quindi se avete capelli grassi sia se avete la forfora sia no ma avete capelli grassi che si sporcano subito provateli veramente sono top e in più sempre di questa linea che è scontata vi ripeto un'offerta lancio quindi approfittate ci sono anche lo scrub corpo anticellulite skinny quindi snellente anticellulite e il detergente corpo bagno doccia appunto tonificante energizzante sempre anticellulite infatti io me li sto portando in palestra faccio lo scrub con questo elimina tantissimo la ritenzione la buccia d'arancia è favoloso veramente è bomba è ricco 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 di ingredienti che stimola circolazione e poi mi lavo con questo qua su tutto il corpo che oltre a essere anticellulite è anche purificante per le zone ad esempio di schiena braccia se avete brufoletti eccetera quindi è top io questi prodotti li amo poi siamo in promozione vi volevo far vedere la nuova cartolina eccola qua questa è la cartolina primaverile che stiamo mettendo nei pacchi in più stiamo mettendo anche i cioccolatini di pasqua cioccolatini di pasqua gli ovetti quindi ordinate già so che state ordinando in tantissime e in più abbiamo anche la promozione con il codice buonapasqua avete il 15% di sconto quindi approfittate ragazzi va tutto a ruba io adesso devo andare a sciocquare la maschera perché già si è un po' seccata io non la faccio mai seccare tantissimo mi raccomando ragazzi comunque è un piacere tenere la subvisola terrei tipo per 10 ore però 10 minuti massimo un quarto d'ora bastano la vostra pelle veramente sembra che avete fatto una seduta di spa è super super purificata i pori sono puliti è molto luminosa provate questi prodotti sono veramente wow siamo un ospite siamo pronte pranzetto Carlita Stagli ci manteniamo leggere c'è anche Pupi ovviamente che scodizzola abbiamo fatto dei fagioli con le scarole che in verità me li ha portati mia mamma erano troppo invitanti ho detto ti piacciono lei mi ha detto sì ma non sono sicura che le piacciono davvero l'ha detto per farmi contenta ad ogni modo adesso li mangiamo sono davvero invitanti poi con questi crostini integrali e poi qua ho messo un po' di prosciutto fisa di tacchino zucchine e mais e adesso mangiamo buon appetito zucchine gialle del video sì esatto del video mangio roba gialla vai Pupi hai fame? tu ci hai fatta la pappa ragazze io sono innamorata di questo trucco vi giuro è stupendo com'è che si chiama Floriana? è un eyeliner sfumato sfumato è bellissimo guardate è stupendo comunque vieni qua vieni fatti vedere lei è Floriana ed è bravissima seguite la su Instagram anche su YouTube è Napoli e provincia una bravissima truccatrice ed è una mia follower quindi facciamo lavorare i giovani con talento guardate che bel trucco che mi ha fatto e abbiamo anche pubblicato una foto sul mio Instagram con questo meraviglioso trucco e la guest star è la coroncina quindi ho fatto una foto così venite a mettere like perché è una foto secondo me stupenda vero? guarda come sta bene adoro comunque questo trucco è bellissimo è molto bellissimo stiamo facendo un po' di prove perché settimana prossima non vi possiamo svelare nulla ma avremo degli shooting per dei progetti che dovrò fare proprio a brevissimo quindi lei sarà la mia truccatrice ufficiale la porteremo con noi comunque seguitemi su Instagram che vi svelerò tutto e tante cose bollono 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 in pedola comunque vi volevo dire oltre a trovare i prodotti che ho utilizzato nella foto su Instagram ve li ho scritti ve li metterò anche nel box informazione sotto ma ci tenevo a dirvi che sono tutti i nuovi prodotti di Nabla che sono stupendi la nuova collezione che trovate su caritashop.com ancora per pochissimo in sconto lancio almeno 15% quindi approfittate vi scrivo tutti i prodotti nel box informazioni sotto e ve li faccio anche vedere brevemente poi mi è piaciuta tanto sta cosa che hai fatto del rossetto cioè che le ha messo prima il rossetto che si chiama Party in Paris e poi all'interno Chloe un po' più chiaro è venuto stupendo e poi abbiamo utilizzato la matita aiutami perché non mi ricordo tesoro la matita marrone di Alchemilla sfumata per fare l'eyeliner poi abbiamo utilizzato la palette sia la Poison Garden che adesso ve li faccio vedere sono tutti i nuovi prodotti di Nabla ragazze i nuovi correttori stupendi comunque trovate 20 colorazioni su caritashop.com queste 5 che ho io sono quelle insomma più frequenti perché poi ci sono molto chiare e molto scure noi abbiamo utilizzato quale abbiamo utilizzato noi? L50 L50 però ci siamo rese conto che poi anche la L40 e la M10 sarebbero andate bene per me quindi vedete sono molto molto simili fra di loro e sono fatte proprio apposta per andare bene per tutti gli incarnati quindi andate tranquille che sicuramente varrà bene è un fondodinta che si adatta al colore della pelle in più è levigante è molto molto coprente ed è bellissimo i nuovi pennelli c'era anche un altro di pennello giusto? qua abbiamo un casino eccolo qua questo piccolino sono sofficissimi ragazzi questo si può utilizzare sia per la cipra che per il contouring per l'illuminante poi c'è questo per il fondotinta ma anche questo anche per il contouring questo per la cipra per tutto e questa nuova spugnettina comunque ragazzi queste cose stanno andando a ruba su caritashop.com perché sono scontate quindi approfittate fate in fretta e due nuovi correttori che noi abbiamo utilizzato questo qua light primary e medium peach per coprire un po' le occhiaie e poi questo qua per illuminare sopra avviene un effetto bellissimo e poi le due nuove cipre che in realtà sono tre però la terza è un po' più scura quindi io ho preso queste due che secondo me vanno bene anche per tutte voi quindi ve le voglio consigliare e questa è light e questa è medium queste qua ragazze sono veramente vanno bene per tutti queste qua si trasparente questa è un po' più diciamo beggiolina e poi vi dicevo per gli occhi abbiamo utilizzato sia la poison garden che è questa nuova palette che è quella con tutti gli ombretti matt che anche questa è scontata su caritashop che è bellissima molto versatile penso di aver detto tutto e ragazzi comunque per sapere tutti i prodotti guardate nel box informazione ve li scrivo tutti perché sono stupendi così potete fare anche voi questo trucco grazie Floriana grazie a te bellissima siamo belle anche tu c'è un bel trucco più o meno anche se sei stanca poverina e qui da un sacco di tempo l'ho rapita anche io sono andata a dormire tardi quindi siamo un po' però io sembra che so fresca come una rosa io no dov'è non vuole un nostro braccio? ok ma stavi registrando tutto ciò? ragazze non lo sapete che ho tre braccia guardate una, due e un'altra con la foto camera comunque volevo dire che allora ho fatto questo video oh mio dio c'è tutto da fuori ho fatto questo video perché in realtà c'è un motivo il perché in realtà in questi giorni non vi ho svelato tantissimo in realtà in questi mesi non vi ho detto tanto però sono successe tante tante cose e che non vi ho potuto rivelare mi emoziono però a breve vi dirò tutto amore togliti sei nell'inquadratura questo è un momento sentimentale tra me e i miei follower comunque no veramente da un lato mi sento in colpa perché veramente è da un po' di tempo che ho una cosa che vi tengo nascosta però è una cosa molto molto grande finalmente la cosa che tutti stavate aspettando che io stavo aspettando che voi stavate aspettando che voi vi aspettavate da me finalmente accadrà e so che adesso sembra veramente incredibile ma è proprio quella cosa che voi mi dite sempre che stavate aspettando è il mio sogno più grande finalmente si avvererà si è avverato e si realizzerà quindi aspetto solo di darvi la notizia ve la darò ovviamente quando sarà fra pochissimo ci tengo a dire cioè se vi sto dicendo questo è perché manca pochissimo questione di giorni che vi svelerò tutto e vi anzi vi dico seguitemi sia su instagram dove vi darò tantissimi indizi di questa cosa sia su youtube martedì ci sarà un video veramente rivelazione dove vi svelerò tutto e non so cos'altro dirvi tranne che sono emozionatissima è una cosa veramente grande e stupenda che sta accadendo ed è non è clickbait stavolta è vero quindi credeteci accadrà il sogno più grande mio più grande progetto si è realizzato quindi non vedo l'ora non vedo l'ora e veramente sono emozionatissima ve lo devo dire da un sacco di tempo che ve lo devo dire però adesso lo devo dire quindi ci vediamo martedì scusatemi se ancora non ve lo dico però veramente martedì alle 14 scoprirete tutto il mio sogno più grande mettete like se avete capito se avete capito quale è ma l'avete capito è quello è quello che pensate scrivetelo nei commenti e ci vediamo martedì qui su youtube ciao ovviamente qui davanti a me c'è il mio fotografo fatti vedere fatti vedere ragazzi seguitelo lui è un po' timido perché è bruttissimo quella la cosa importante è che lui è molto brutto quindi si vergogna non vero scherzo è anche bellissimo ragazzo comunque seguitelo seguitelo su questo è Dario questo è Armando seguitelo su Instagram Armando la pietra oggi abbiamo fatto è vero abbiamo fatto una bellissima giornata di shooting di lavori quindi tantissime novità in arrivo non voglio far vedere c'è anche il mio amore sono come Armando vai paparazzami non voglio far vedere quando è il Dario through the dark side of the morning who's gonna rock you when the sun won't let you sleep who's waking up to drive you home Ciao!